buonasera e ben arrivato che belva si sente no io allora tanto la belva sei tu a turno no io io non non mi appartiene l'essere belva proprio non mi appartiene però sono solo più un crocio tra un gabbiano la solitudine del lupo se dobbiamo trovare degli animali è un capobranco il lupo io non è che non si dire indietro anche non comandi e non debba prendere decisioni non piace comandare questo lavoro per come lo fai come lo faccio io deve avere purtroppo una parte di comando di comando forte energica ma soprattutto però deve avere rispetto degli altri senta questo è uno studio esterno alla rai ma che effetto le fa tornare in rai stasera ma guarda io ho nel cuore l'azienda in cui sono cresciuto per me lasciare è stato un dolore profondo però oggi a distanza di anni credo anche che si sia a volte non esserci è un valore perché fai delle scelte e soprattutto cresci come uomo i primi anni sono stato abbastanza è stata faticosa però poi devo dire grazie a chi mi ha mandato via costretto a fare una scelta di dignità perché come uomo sono sono davanti nelle tempeste si costruiscono le persone alla domanda esiste il gilettismo lei rispose esiste ce lo spieghi che cos'è il gilettismo è una follia non so in che anno avrò risposto così prendo le distanze non lo so il gilettismo che cosa sarà mai che cos'è no lei ha detto avere la schiena dritta e non temere il potere dei palazzi era un momento di follia un po di delirio vede che ce l'ho anch'io il gilettismo era avere la provocazione adesso ricordo chi ma ha fatto intervista detto si esiste se esiste nel senso che uno che va avanti per la sua strada si chi sono gli adepti del gilettismo vede adepti no per carità adepti già mi fa venire ansia mi fa che è una setta una cosa chiusa io sono un aperto allora lei sulla parola populista ha detto a me piace quella parola perché intesa nel modo corretto vuol dire essere dalla parte del popolo e non del palazzo e credo che sia la demagogia populista è un danno saper stare da una parte che è la parte delle persone e non dalla parte di chi sta nei palazzi credo che sia un dovere anche per chi fa questo lavoro però poi diciamo che la definizione populista nel tempo un po cominciato a infastidirle perché ha detto se dovete etichettarmi dite che sono un eretico non un populista eretico è più grave o meno grave di populista no per me l'eretico è fondamentale perché non è che cerchi la verità non io sono delle teorie che non esiste la verità l'eretico il colui che cerca una serie di possibili verità che ti portano a qualcosa del cui marare rispetta una dottrina no di solito un eretico rispetta qualche non mi vedo come fra dolcino no anche perché ha fatto una brutta fine abbastanza però di non è farla in modo diverso meno tra